Marito e moglie vanno dal dottore per una visita, quando a un certo punto il dottore fa uscire il marito e chiama in disparte la signora. Signora, guardi, il problema è molto grave, il suo marito è gravemente depresso, c'è questa depressione dovuta da stress professionale, familiare soprattutto, e se va avanti così nel giro di poco morirà, mi dispiace, signora. Oddio, che posso fare? Signora, se lei segue i miei consigli, allora mattina, colazione a buffello, faccia dormire fino a tardi, finché vuole, senza disturbarlo con inutili rumori molesti come l'aspirapolvere e queste cose qua, non ci litighi mai, lo faccia sempre stare di buon umore, gli faccia sempre bei pasti caldi sia a pranzo che a cena e poi la sera con indumenti sexy gli faccia dei bei massaggini a letto con oli essenziali e soprattutto gli faccia vedere tanto sport in televisione senza disturbarlo. Se lei segue questi miei consigli, nel giro di 10-12 mesi, suo marito guarirà. La signora torna a casa col marito, il marito la guarda e gli fa Allora, che t'ha detto il dottore? Che t'è rimasto molto poco da dire!